Chi era? Chi era? Siamo pronti? Abbiamo qua anche il chitarrista famosissimo Fra poco andrà sulla rivista Mark & Mag dopo questa serata Qua chi abbiamo? Vediamo qua Benissimo, qua stiamo preparando la lista degli invitati? La lista degli invitati? La lista, eh? Ok Qua chi c'è? Chi c'è qua? Guarda che si vede meglio da qua, guarda Sì, deve muovere Abbiamo tutti in attesa del grande evento, Nick Ci siamo? Qui abbiamo anche il nuovo giocatore di bici molle Mario Stoklos Un bambino Porca miseria Fresco fresco, le prime armi? Le prime, sì Qua invece? Lui non gioca? Lui gioca con la maceratessa Lui faccia... Faccia torre uno che ti stacca con l'aria Oh, stasera è stata lì Sto dando i macerati C'è una scatola che mi ha messo qua Oh, se c'è... Oh, se c'è... Oh, se c'è...